Mister Mauro Zironelli arriva alla sconfitta in rimonta sul campo del Brusaporto. Cosa è successo soprattutto nel secondo tempo? C'è stata un'inversione incredibile perché avevamo fatto un gran primo tempo, soprattutto i primi 20 minuti, comunque siamo andati in vantaggio, abbiamo preso la traversa, eravamo in partita alla grande, loro non abbiamo accesso niente, nel primo e secondo tempo ci siamo detti di ripartire, di cercare di chiudere la partita, però abbiamo preso il gol dopo 10-12 minuti, dove stavo pensando di chiuderci però non mi sembrava il caso perché non avevamo avuto segnali di chissà cosa, poi c'è stato un crollo dove abbiamo subito il gol, dopo 7-8 minuti abbiamo subito il calcio d'angolo dove ho saltato da solo, credo addirittura da rigore, però non si spiega questo calo di improvviso, ho capito, è la terza partita, eccetera, però nel secondo tempo abbiamo fatto poco e soprattutto a livello agonistico ci avevamo messo poco, quello che mi dà fastidio enormemente perché non accetto un calo così a livello agonistico.